Un saluto amici di Simonello e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per vedere con voi analizzare la partita del nostro amato Milan Allora, tutto sommato la partita è andata benino Però non va bene assolutamente che pareggiamo 2-2 Dopo che nel primo tempo stiamo vincendo 2-0 Un conto se era 2-1 Però noi gli abbiamo regalato la partita così non va bene Perché non si può far così Comunque amici, dicevo, io avevo detto 2-1 E ce la siamo un po' gufata Perché poi è diventata 2-2 Cioè perché non va bene che facciamo 2-2 Capito? Non va bene che facciamo un 2-2 Contro il Napoli che stavamo vincendo 2-0 E loro sono pure senza Ozymen Che è il più forte della squadra insieme a Kvaraschelia Io non faccio adesso... Non sto dicendo chi è più forte tra Ozymen e Kvaraschelia Anzi non voglio dire assolutamente niente su questo paragone Perché secondo me sono tutti e due ottimi giocatori Comunque concentriamoci sulla partita Mignano ha fatto benino Ha sporcato un po' su... Ha fatto alcuni errori Che non si aspettano da lui Però un 6 io glielo darei Leao secondo me ha fatto abbastanza bene Un 6 se lo merita Comunque un conto è subire gol sulla punizione Che Raspadori l'ha bettuta bene Ma subire gol Da Politano Pellegrino ha fatto così Vi faccio indire Guardate Prende una palla Anzi prendiamo questa che è proprio un tema Milan E poi è dura Politano Politano arriva qua Limite dell'area Con la palla Fa un sombrero quasi a Pellegrino Pellegrino la prende così Così guardate Così Proprio gli rimbalza contro così Gli rimbalza Politano a questo punto Prende la palla col piede Si sposta Si beve Pellegrino E tira una sabongia Che il Mignano non può assolutamente prendere Ma Pellegrino è andato leggerissimo Cioè è andato così per farvi capire Così Pianissimo E non va bene che noi facciamo questi errori così Perché Siamo in Milan E dobbiamo arrivare in Champions L'obiettivo è vincere lo Scudetto Comunque Dai ci rifaremo la prossima Speriamo Noi ci vediamo domani con l'asta elefanta calcio Fatemi sapere cosa ne pensate Pellegrino un'ingenuità Comunque questa palla è molto bella C'ha dei fronti L'ho presa io con la mia mamma Che gli piaceva Questa è la palla del Milan Con la terza maglia Ufficiale assolutamente Vi faccio vedere anche Se non ci credete Guardate ACM Fanball Mini Ufficiale Per farvi capire Che non è falsa Comunque Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Con l'asta del fanta calcio Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto E se siete d'accordo Mettete tanti polgi su Zero polgi in giù Fate un mondo di visualizzazioni E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Dell'asta del fanta calcio Ciao